In attesa del nuovo stadio, gli spettatori del Friuli già da questa stagione potranno iniziare a vivere la partita in una nuova dimensione. Il settore della tribuna, sia le tribune laterali che quella centrale, è stato completamente rivoluzionato. Con l'aiuto dei ragazzi della squadra Primavera abbiamo realizzato una simulazione per mostrarvi le più importanti novità in termini di comfort. Sia in tribuna laterale che in centrale, più spazio tra una poltroncina e l'altra per una maggiore possibilità di movimento. La tribuna è quasi piena, arriva un ritardatario, la ricerca del posto e la sistemazione sulla poltroncina avviene rapidamente e senza creare disagio agli altri spettatori. Nel settore della tribuna centrale, le nuove poltroncine sono equipaggiate con cuscino e schienale imbottiti. Inizia la partita. Uno spettatore vuole alzarsi per raggiungere il bar oppure la toilette. Con la vecchia configurazione dei posti, gli spettatori sulla fila erano costretti ad alzarsi per lasciare spazio. Da questa stagione l'attraversamento sarà molto più comodo. E quando segna l'udinese c'è più spazio per esultare. Le più importanti novità in termini di comfort. Inizia la partita. Uno spettatore vuole alzarsi per raggiungere il bar oppure la toilette. Con la vecchia configurazione dei posti, gli spettatori sulla fila erano costretti ad alzarsi per lasciare spazio. Da questa stagione l'attraversamento sarà molto più comodo. Sia in tribuna laterale che in centrale, più spazio tra una poltroncina e l'altra per una maggiore possibilità di movimento. La tribuna è quasi piena. Arriva un ritardatario. La ricerca del posto e la sistemazione sulla poltroncina avviene rapidamente. In attesa del nuovo stadio, gli spettatori del Friuli già da questa stagione potranno iniziare a vivere la partita in una nuova dimensione. Il settore della tribuna, sia le tribune laterali che quella centrale, è stato completamente rivoluzionato. Con l'aiuto dei ragazzi della squadra Primavera abbiamo realizzato una simulazione per mostrarvi e senza creare disagio agli altri spettatori. Nel settore della tribuna centrale, le nuove poltroncine sono equipaggiate con cuscino e schienale imbottiti. Nel settore della tribuna, le nuove poltroncine sono equipaggiate con cuscino e schienale iniziare a vivere la partita in una nuova dimensione.